Ciao, eccoci qui da Retusa, la libreria che da ormai 74 anni si occupa di diffondere la cultura dell'esoterismo, la cultura della spiritualità in Italia e non solo, libreria che da ormai un anno e mezzo, quasi due, si è lanciata anche nell'organizzazione di corsi, faccio questi video, mi sono veramente lanciato, ho scoperto un nuovo mondo, il mondo del digitale, il mondo dei corsi, è una bella avventura che è appena partita e andrà avanti in maniera eccezionale per sempre, ma oggi siamo qui per i nostri incontri del giovedì, le nostre recensioni, in cui, come sapete, una volta a settimana, tutti i giovedì alle 6, vi parlo di un libro che mi è piaciuto. Questa volta parliamo di Alchimia di Jacques Van Lennep, che è un libro, notare la mole, cioè, in carta fotografica pesa un casino e mi andrà in cancrena la mano, però cerco di tenerlo in equilibrio e cerco di farvelo vedere perché è veramente una cosa eccezionale. Allora, Jacques Van Lennep è un professore di storia dell'arte dell'Accademia Reale del Belgio, è un professore specializzato nell'iconografia, nell'arte alchemica, che già nel 1966, lo metto così perché mi si sta veramente andando a male la mano, già nel 1966 aveva pubblicato un libro molto interessante sulla simbologia alchemica, che però, ci dice lui nella sua introduzione, risentiva di tutta quanto una serie di immagini che non aveva trovato, che non erano state pubblicate, che non c'erano, che potete immaginare, e questo libro, costruito a seguito, nasce quasi come il catalogo di una mostra, a seguito appunto di una mostra avvenuta in Belgio, aggiunge un'ira di Dio di roba, aggiunge quei 50 anni di conoscenza in più personale, sviluppate appunto in questi anni, di passione per l'arte e passione per l'arte legata all'alchimia. Bene, questo libro, come potete immaginare, è un libro che raccoglie e commenta immagini legate al mondo alchemico. Immagini di ogni tipo, immagini a colori, incisioni, raccolte da testi importanti, ci sono, per dire, le tavole dell'Atlanta Fugens, tutte quante le varie immagini che introducono i capitoli, che fanno parte dei capitoli di questo libro meraviglioso, ci sono quelle di Basilio Valentino, ci sono veramente un sacco di cose molto 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 interessanti che vanno a, come dire, vanno a passare quello che è il contenuto alchemico che è stato inserito, che è stato celato, che è stato scelto dai grandi alchimisti della storia per veicolare in maniera spesso ermetica... scusate che qua... sto veramente morendo... per veicolare in maniera spesso, in maniera ermetica, quelli che sono, quello che è il loro sapere, quello che è il messaggio, quella che è la mappa della procedura, la mappa dell'opera, che hanno deciso di raccontare in quel testo. E qui facciamo, facciamo un discorso a monte. Allora, qua in Liberia sono tanti anni che mi arrivano libri che persone mi chiedono di libri di alchimia spirituale, di alchimia psicologica, di alchimia legata alla qualsiasi. Questo è un enorme problema che nasce da quel meraviglioso libro che è Psicologia e alchimia di Carl Gustav Jung, in cui lo psicologo non alchimista utilizza l'immaginario, l'iconografia, i concetti alchemici per spiegare un qualche cosa che non è alchemico, è solo ed esclusivamente psicologico. Questa roba qua, messa in mano a persone che non sono mai state davanti al forno, che non hanno mai approfondito realmente i concetti, gli ha messo in mano uno, come dire, un mitra in mano ad una scimmia, mettiamola così, citando Better to Call Saul. Hanno messo il mitra in mano a una scimmia, nel senso che hanno dato, senza nulla togliere alle persone che hanno scritto quei libri, senza voler dire o biasimare o parlare male di nessuno, eh, assolutamente, però sono nati, come dire, degli inconvenienti, sono nati dei fraintendimenti, ecco la parola che cercavo, sono nati dei fraintendimenti su quella che è la vita dell'alchimista, su quella che è la pratica dell'alchimia. L'alchimia non ha nulla di psicologico, non è, non esiste l'alchimia spirituale. Bene, questi libri, i libri di cui abbiamo già parlato in questi nostri incontri, abbiamo parlato di alchimia, di Cancellier, abbiamo parlato di Il mistero delle cattedrali, di Fulcanelli, sono dei libri veri di alchimia, con tutte le loro problematiche, con le loro enormi problematiche, nel senso che il non iniziato, la persona che non è mai stata davanti a un forno, la persona che non ha mai provato, la persona che non si è mai scornata con l'operatività, spesso capisce soltanto una parte, se va bene, di quello che è il lavoro, di quello che è il testo, di quella che è la cosa che l'alchimista deve necessariamente saper fare. Bene, questo libro, insieme ad altri libri seri, dà realmente l'idea della complessità, dà realmente l'idea di che cosa realmente un alchimista deve conoscere e dà anche la possibilità a persone che hanno già intrapreso il percorso, a persone che si stanno approcciando in maniera seria all'argomento, gli dà la possibilità di raccogliere in un unico volume di 500 pagine quasi, con più di mille immagini, quello, mille immagini commentate giustamente e con dovizia di particolari dettagli appunto da uno storico dell'arte specializzato in arte alchemica. Poi non sappiamo se lui sia operativo al forno, cioè io non so personalmente se lui sia un operativo al forno, ma mi dicono persone avvezze alla materia che l'hanno letto che... capiamoci. Quindi gli dà gli strumenti. Questo qui è un libro che dà strumenti, dà analisi, dà comprensione e per l'operativo e per l'appassionato che ancora o che operativo non è. Quindi un libro veramente da leggere, potete immaginare, è in carta fotografica, vedete dalla fatica che sto facendo al braccio, quindi al suo prezzo, indubbiamente al suo prezzo, non è un libro regalato assolutamente, ma vale ogni singolo euro che venite a darmi per avere in cambio questo libro meraviglioso. Veramente è un libro strepitoso, veramente un libro da leggere, da sfogliare e come dicevo nel video di ieri mi è cascato in mano... non mi è cascato sul serio perché se no adesso ci avrei il gesso, tanto è pesante, ma mi è cascato in mano ieri di nuovo perché l'avevo già... è uscito un paio di anni fa. L'avevo visto, spulciato, analizzato, leggiucchiato quando è uscito. Ieri stavo facendo una ricerca iconografica per delle cose che sto facendo sul sito e ho detto andiamo a vedere se dice qualche cosa che mi può dare l'intuizione. L'ho aperto di nuovo ed è veramente una cosa che dici, ok? Spettacolo, veramente! Quindi se volete venire a dargli un'occhiata, se volete venire a sfogliarlo, se volete venire a percepire il peso della cultura che questo libro si porta dietro, venite, fate un salto, mandatemi una mail, se avete bisogno, tanto ci sono tutti quanti nel testo del post ci sono tutti quanti i modi per ottenere il libro, per chiamarmi, per... ci facciamo una videochiamata, vi faccio vedere le immagini e poi, se non mi ricordo male, Mediterraneo aveva messo anche un link sul suo sito che vi metto qua nella descrizione del post con degli estratti da questo libro. Vado a ricercare, se lo trovo ve lo metto. Un libro veramente, veramente, veramente eccezionale. Alchimia di Jacques Van Lennep, qua da Retusa, come vedete ce l'abbiamo, venite a sentire il peso della conoscenza di questo libro. Grazie mille per l'attenzione, a presto, ciao!